Io mi presento, sono Laureana Sapienza, sono l'assessore ai servizi sociali, all'immigrazione e all'innovazione digitale, quindi se avete bisogno anche di qualcosa di digitale ne parliamo, del comune di Castenaso e mi fa molto piacere che apra, grazie all'ospitalità del centro sociale, questa nuova scuola di albanese. Grazie a tutti. Grazie a tutti.